Hai vinto la gara, oggi hai fatto una gara fantastica. Ed eccoci alla fine di un altro spettacolare Gran Premio del Varena e ovviamente abbiamo un vincitore. Luca Filippi, in cosa ritieni si siano distinti dagli altri in questa gara? Può sembrare riduttivo, ma credo che la qualità dell'auto abbia giocato un ruolo fondamentale. Possiamo discutere di piloti finché vuole, ma senza un team esperto alle spalle è impossibile ottenere risultati. E quando il talento del campione incontra un assetto vincente, è facile assistere ad imprese come quella di oggi. Dopo una gara del genere sono stanco io, non oso immaginare loro. Hanno lavorato sodo per arrivare lassù. È una grande soddisfazione vederli raggiungere il podio. Grazie a tutti.